Andreacchio Antonio, tu è stato il primo gol di testa, a chi lo dedichi? A i miei genitori ovviamente, presentaci vai Francesco Andreacchio, mia mamma me ne ero sapete là Quanti anni ero? 16, quasi in cestetto Da quando hai iniziato a giocare a calcio? Da quando ero piccolo però negli allievi, giusto in maniera giusta dall'anno scorso Poi l'allievi l'anno scorso Ecco, il gol a chi lo dedichi? Sì, è il mio genitori Cosa ti è venuto in mente quando hai segnato? La maglietta c'era una spinta, torna presto Calamaro, è per un mio compagno che si è fatto male Quindi gliel'ho voluta dedicare E poi quando la palla è entrata ho detto mi ho segnato io Poi mi sono girato e mi hanno abbracciato Quindi si è detto che mi ho segnato veramente io Grazie Ciao